buonasera ecco il libro di oggi elmuth newton dall'opera fotografica scrim il mosell edizioni 193 160 pagine più di 100 fotografie bianco e nero e colori elmuth newton e la sua fotografia trasgressiva studiata nei minimi particolari nei minimi dettagli ha fatto sicuramente storia ha fatto epoca nasce nel 20 a berlino da una famiglia di ebrei è costretto a scappare nel 38 a causa delle leggi razziali naziste torna alla fine della seconda guerra mondiale inizia a collaborare con vogue ma la sua vera fama inizia a fine anni 60 quando introduce l'eccesso e la trasgressione nelle sue foto in una società non ancora pronta ancora molto molarista ma che aveva i prodromi della società degli anni 70 che decisamente differente in breve diventa il fotografo più apprezzato più discusso ma anche più richiesto del pianeta buona lettura a tutti